Con il sindaco di Genova non si può non parlare oltre che di infrastruttura anche di sicurezza. Veniamo da giorni in cui il vento e il maltempo hanno fatto cadere alberi, cartelli stradali. C'è un'emergenza sicurezza con la stagione invernale alle porte? C'è un'emergenza sicurezza a 365 giorni l'anno in Italia, non a Napoli. Se i governi non cambiano rotta e se non cominciano a investire sulla sicurezza del nostro paese, dalle infrastrutture all'edilizia, dai monumenti alle scuole, dalle strade agli alberi, la risposta sarà sempre la stessa. Lasciare i sindaci del nord, del centro e del sud col cerino in mano, senza risorse, senza possibilità di spendere. Io sto vivendo con molta attenzione questa tensione che c'è ai margini dell'approvazione della manovra finanziaria da parte del governo perché condivido le affermazioni di esponenti di questo governo, comprese quello che ho letto oggi di Luigi Di Maio. Il rispetto per i numeri è importante, il rispetto per i vincoli è importante, ma è venuto allora nelle città come nel nostro paese che prima di tutto questo vengono i diritti e vengono le persone. È la battaglia che stiamo facendo da sette anni e mezzo. Quindi se su questo si può fare una battaglia comune tra sindaci e governo per far prevalere le persone rispetto ai numeri, forse questo paese comincia ad avere anche più sicurezza in un modo omnicomprensivo, perché adesso c'è l'emergenza di vento, poi ci sarà l'emergenza di freddo, poi ci saranno le emergenze, non so più emergenze, io non le chiamerei più emergenze. È l'ordinarietà della vita di un paese. Poi chiaramente sono città che stanno più in difficoltà perché vivono situazioni economico-finanziarie ancora più complicate, città che magari sono un po' più ricche e riescono anche a sopperire con fondi privati, ma mi par di capire un po' anche le tragedie che accadono nel nostro paese, sono davvero trasversali dal sud al centro al nord alle isole del nostro paese.